Traslochi Cotroneo. Conta su di noi, non ti deluderemo. La nostra azienda opera nel settore dei traslochi e trasporti nazionali, internazionali ed intercontinentali da tre generazioni. Ci occupiamo personalmente dei nostri clienti, offrendo loro qualità e servizio. Con l'ausilio di personale esperto e qualificato, viene eseguito smontaggio, rimontaggio e immallaggio dei mobili, anche antichi e delicati, avvalendoci di assicurazioni contro ogni rischio. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti magazzini consistenti in box di varie metrature, sorvegliati 24 ore su 24, per depositi a breve o lunga durata. Offriamo inoltre servizio di archiviazione e documenti, del quale usufruiscono note banche, aziende ed uffici privati. Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Traslochi Cotroneo. Siamo a Roma, in via Tortora 71.